Musica Ho telefonato a Asi Argento in primavera chiedendolo se voleva fare la guest director ho pensato a lei perché perché era un dono di cultura perché fa un sacco di cose è attrice di cinema, di teatro performer a un certo punto poi aspettiamo sì no no basta ciao veramente performer no basta no basta e secondo me è una regista cinematografica molto brava con un occhio che nei tre film successivi è sempre migliorato ha un'iritea precisa del linguaggio e delle cose che vuole raccontare per cui ho detto ci provo Asia ha accettato perché? perché? perché me lo dici tu ah ma questo si sente? si 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 sente e perché ci è venuta subito l'idea perché lei lei è venuta però tu hai abbracciato così lei è colta al volo subito ha colta al volo perché è un'idea perché conoscevi tutti i film no ma intanto perché come avendo fatto voi sapete due anni di retrospettiva a New Hollywood andava comunque a pescare in quel bacino di cinema che amiamo moltissimo tutte e due no? e poi perché anche un sottofondo giusto diciamo politico perché effettivamente questi questi personaggi sono poi quelli che hanno votato Trump l'anno scorso anche un po' ma questi sono quasi morti tutti però i figli dei figli esatto i figli perché sono tutti film fra anni 70 e 80 e l'idea era molto bella i film erano molto belli e ha tirato fuori anche alcuni titoli da vera intenditrice e conoscitrice di quel di quel pezzo di cinema e vabbè adesso parla tu allora sì ma dammi il tuo che questo mi sembra tutto è tutto vattato sono ecco questo ah sì senti molto meglio e sì io in realtà questi film secondo me sono tutti questi che ho scelto e che grazie a Dio sono riusciti a trovare perché alcuni immagino che sia stato anche difficile sono come tutti i cugini fanno parte della stessa famiglia beh ci sono tre registi europei Wenders e Herzog io e quindi anche un'America vista dall'esterno comunque affascinata dalla desolazione di questi luoghi che non si conoscono si conoscono di meno noi conosciamo meglio New York o Los Angeles però chi è stato in Tennessee in South Carolina oppure anche in Wisconsin sono tutti i nomi che abbiamo sentito ma pochi di noi hanno visitato e in effetti sono affascinanti secondo me per me quando sono andata poi beh questi sono tutti i film a cui mi sono ispirata per quello che poi ho girato io e quando poi sono andata a fare i sopralluoghi io ero affascinatissima ero innamorata da questi luoghi in realtà architettonicamente spaventosi questi parcheggi questi malls questi grandi magazzini questi fast food questi supermercati io mi sembrava tutto bellissimo o se non altro affascinante perché è sconosciuto e e poi per per uccidere l'ignoranza ci vuole solo questo la conoscenza e si si impara anche ad amare perché poi per raccontare dei personaggi nel film che ho fatto in realtà non sono tutti fra il 70 e il 80 perché il mio è del 2004 è figlio però di questi cugini dovevo amarla per raccontarla anche per raccontare dei personaggi abbastanza abbietti come quelli del mio film ma anche come quelli del film che vedremo stasera Out of the Blue io non so neanche se uscì in Italia nelle sale io credo 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 si è uscito probabilmente abbastanza in ritardo forse aveva anche un sottotitolo no non c'è mi pareva che avesse anche un secondo titolo come Snack Bar Blue però non era in italiano era un altro ancora credo comunque forse cinefili comunque tanto è Out of the Blue è la canzone di Neil Young che poi è nel film che poi Kurt Cobain nella sua lettera di addio al mondo l'aveva citata e diceva It's better to burn out than to fade away è meglio bruciare via che sparire lentamente è un po' quello che succede alla protagonista del film che è interpretata da questo genio Linda Manz che poi fu recuperata da Harmony Corrine per il suo primo film che anzi Gammo ci doveva stare questa retrospettiva assolutamente e si vede lei non so dove l'ha beccata che a un certo punto balla il tip tap in un basement in un come cacchio in un sottosuolo sotterraneo e è lei che porta il film avanti è un film dove gli adulti sono veramente dei mostri dei decorati suo padre in carcere poi esce con cui ha una relazione di amore totale ma anche poi lo scoprirete veramente di un senso di tradimento spaventoso da parte dei genitori la madre è un ero in omene che se la fa con gli amici del padre ora non vi voglio raccontare tutto però insomma questi adulti fanno veramente schifo e l'unico momento di gioia di questa ragazzina che è credo abbia 13 o 14 anni è a un certo punto va a un concerto punk e là gli adulti o quelli un po' più grandi di lei perlomeno la vediamo sorridere giocare suona la batteria è felice per il resto la sua vita è vuota è scevra di amore e lei va avanti un po' per inerzia un po' perché perché ama Elvis e c'è questa storia meravigliosa di lei che è ossessionata da Elvis in cui io mi riconosco perché anche io da bambina avevo questa ossessione e lei ripete sempre disco sax punk is here to stay Elvis is with me forever è un film fatto di poche cose poi fra l'altro in realtà è stato girato pure in Canada infatti noi ci dicevamo no perché per tax credit come tutti girano a Torino per lo stesso motivo sto scherzando ma non ridete tanto da queste parti ecco dai e si gira spesso in Canada facendo finta che sono gli Stati Uniti in quegli anni gli americani giravano tantissimo in Canada però era America in realtà quindi era States vabbè Northern si Northern America e comunque io ho avuto la fortuna di lavorare due volte con Dennis Hopper ero un mio amico e quando ci lavorai per la prima volta in realtà stavo scrivendo ingannevole il cuore più di ogni cosa e mi ero ispirata molto nella scrittura al suo film e continuavo a fargli sempre domande da fan mi ha raccontato tantissime cose straordinarie lui non doveva dirigere questo film in realtà era un altro che poi non andava bene a un certo punto deve aver avuto degli screzzi con Dennis e è stato mandato via e lui ha preso le redini del film e l'ha finito lui l'ha finito l'ha continuato è un film veramente libero io amo tantissimo Hopper come attore naturalmente ma è un regista straordinario è stato un regista straordinario secondo me The Last Movie è un capolavoro e lui mi disse appunto di se infatti l'ho chiamato The Last Movie perché sapevo che sarebbe stato il mio ultimo film poi vabbè ha fatto Colors anche ma avrebbe potuto sì secondo me si meritava una carriera da regista molto più con un respiro più ampio nell'arco dei decenni che ha lavorato che ha regalato tantissimo al cinema infatti guardate questo film io l'ho rivisto adesso mi era piaciuto moltissimo poi l'ho rivisto un po' negli anni ma non tantissimo io direi che è un capolavoro cioè avendo rispolverato tutta la New Hollywood in cui ci sono dei film straordinari eccetera e questo è proprio ci si infila dentro alla perfezione anche se è dell'81 e tira fuori proprio il succo di quell'immagine lì dell'America c'è anche l'altra scena dove lei passa in mezzo a dei majorette ragazzine si è rubata che ai tempi era proprio guerrilla non si usava rubare le scene ai tempi che è proprio è perfetta ti trasmette quello spirito e quella tristezza infinita io credo come Asia che sia stato non tanto per Easy Rider ovviamente ma per questo veramente un grande regista ha usato un po' Hyper Colors un grande regista che ha che ha lavorato poco sì cosa mi era sì secondo me e poi ora dirò una cosa abbastanza estrema secondo me questo film che poi è stato girato nel 1980 è il miglior film degli anni 80 perché in realtà negli anni 80 hanno fatto abbastanza schifo per me scusatemi sono più da film anni 60 e 70 anche nella musica diciamo gli anni 80 c'è stato proprio un'implosione della creatività ma un film sì ma un film senza tempo e sicuramente non appartiene a quel decennio dove anche è senza tempo anche per come sono vestiti i personaggi per come è girato gli anni 80 appena li vedi vedi quelle giacche coi capelli e sei subito è veramente datato questo è un film che può essere stato fatto anche un anno fa è solo che non ci sono più questi 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 grandi visionari come era Hopper è un omaggio a un grande e è bello cominciare con questo film è proprio la grande vi dobbiamo abbiamo 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 sviscerato vi dobbiamo soltanto dire un'altra cosa questo film è in 35 mm è una coppia in 35 l'unica coppia che si trova in questo momento al mondo ed è un po' magenta un po' magenta però allora abbiamo chiesto ad Asia e Asia tra la coppia magenta e invece l'altra proiezione ha preferito la coppia magenta per cui è una scelta d'autrice sì perché il film io il film vive nel senso io ho girato il primo film è stato il primo in digitale in Italia ma gli altri due li ho fatti in pellicola anche quello del 2014 quindi io credo che la pellicola non debba morire e secondo me appunto preservarla anche magenta è un dono per l'umanità per cui grazie a tutti e buon divertimento grazie a tutti